Un successo straordinario, dove si consideri che eravamo solo alla seconda edizione, Lucca si è colorata e animata con gli atleti ed atlete della mezza maratona. Qualche numero prego per credere, 2082 iscritti che va al di là anche delle più rose previsioni, con 1700 arrivati che sono numeri davvero da grande gara. Possiamo ben affermare che la mezza di Lucca è ormai tra le più affollate del centro Italia, da segnalare anche la nota rosa con le presenze record al femminile. Si sono contate infatti quasi 650 iscritte alla partenza dal baluardo La Libertà Cairoli. Sul piano tecnico esistevano pochi dubbi che sarebbe stato un dominio africano, Kenya e Rwanda sugli scudi, coi grandi favoriti della vigilia che non hanno deluso le attese. Osea Chimeli Chisorio della Virtus Lucca ha vissato il successo del 2014 e lo ha fatto dando spettacolo. Solo il 24enne keniano ha impresso alla corsa a un ritmo insostenibile per gli avversari e ha allungato stroncando la resistenza di Simu Keka e Kariuki che inizialmente avevano provato a tenerne il passo. Chisorio si è involato verso il traguardo e ha chiuso con l'ottimo tempo di un'ora e un minuto e 59 secondi che batte il record di Salvatore Bettiol stabilito nel lontano 1989. Alle sue spalle ma con distacchi robusti sono giunti il ruandese Simu Keka che ha preceduto di una manciata di secondi l'altro keniano Kariuki. In campo femminile da notare il successo di Claudette Mukasakindi che completa il 21 chilometri e 95 metri in 1'14'40 sul secondo gradino del podio la marocchina Gianatta a quasi 3 minuti e l'italiana Federica Proietti. Primo italiano all'arrivo Davide Ragusa dell'Atletica Futura, primo atleta lucchese il bravissimo Stefano Simi del gruppo podistico Alpiapuane, prima atleta lucchese Claudio Amarietta del GS Lammari. Grande soddisfazione per gli organizzatori di Lucca Marathon a cominciare dal presidente Moreno Pagnini per una manifestazione che nonostante sia nata l'altro ieri sta davvero facendo enormi progressi.